Per settimana sport siamo con Stefano Bernini, portiere dei Lampi. Allora Stefano, un rigore parato, tantissime grandi parate oggi, però tre gol alla fine, dai, ci può stare? Sì, differenza di motivazione troppo evidente, tante cose a loro favore, lo stato di forma, voglia, tutto. Noi abbiamo staccato, purtroppo abbiamo staccato da un po', loro invece sono qua che stanno esultando perché mi sembra che attualmente siano primi in classifica, quindi... Ad ogni modo avete fatto la vostra partita, vi siete impegnati direi? Sì, abbastanza, magari proprio si poteva fare qualcosa in più secondo me a livello proprio di dignità nostra personale, però va bene così. Vabbè, ad ogni modo il San Desiderio aveva la testa, aveva in testa la prima posizione, dai, va bene così, ad ogni modo ti faccio i complimenti perché a mio parere sei stato migliore in campo della tua squadra. Grazie, grazie Stefano. E abbiamo perso 3-0, pensa un po'. Vabbè, quando hai parato anche un rigore forse hai fatto tanti interventi, avresti potuto anche prendere più gol, dai, va bene così. Sicuramente, va bene così, dai, non c'è problema, grazie, ciao, ciao.